Il risultato rotondo, rotondissimo, un Napoli bello con un super Ozyman, un Zelischi che già nel primo tempo chiude i giochi. Un Napoli che subisce poco nella ripresa, c'è stato questo gol dello Spezia sul 3-0 che ha ridato un po' di verba la formazione spezzina, però poi è arrivato anche il quarto gol con l'aiuto del VAR, Ozyman l'ha messa dentro per Lozano che ha battuto Provedello. Un gol importante, quello anche del Ciuchi che ritorna al gol dopo che anche lui non era stato nelle ultime partite al top. Ma dobbiamo fare i complimenti a questo ragazzo perché Ozyman veramente ha fatto una partita eccezionale, lanciato da Zelischi, lanciato da Insigne, in velocità veramente imbattibile. Era la partita perfetta per lui con lo Spezia che ha dato poi troppo campo proprio al nigeriano, forse per bravura del Napoli ma anche per colpa proprio del gioco di italiano che è propositivo. E' chiaro che questo Napoli riesce a mettere questi tre punti in cascina, complimenti a tutti, peccato per Mertens, ancora un problemino alla caviglia, speriamo che questo ragazzo possa essere ancora utile nel finale. Comunque complimenti a tutti anche alla difesa, Manolas e Rachmani non hanno avuto sbavature di Lorenzo Isai, di Lorenzo uomo assist anche nel primo gol di Zelischi. Demme come al solito un motorino a centrocampo. Con me Diego Marino per commentare questo bel 4 a 1. Ciao Francesco, sì finalmente, la partita che ci aspettavamo, importantissima, tre punti portati a casa e Osimeno quando c'è da criticare si critica ma quando c'è da elogiare si elogia. Certo, veramente una bella partita e ci piace, ci piace questo Osimeno anche come ne parlavamo anche prima, è vero che questa è una partita con lo Spezia quindi ti lasciano spazio mentre le altre squadre no. Potrebbe essere diverse. Spero diamogli tempo perché sembra che si stia un po' adattando al gioco. No ma soprattutto sta prendendo quell'attenzione che noi volevamo da questo ragazzo. Sì, sì. Questo sta facendo. Ma poi anche altruista, visto sul gol di Lozano poteva benissimo tirare invece l'ha guardato, l'ha messa a cenere. Quindi veramente oggi nulla da dire no. Oggi penso che sia una delle migliori partite che abbiamo visto di questo ragazzo. Allora dovremmo avere il nostro Max dall'auto perché dall'auto ti hanno dovuto scendere, ti hanno cacciato di casa. Vabbè ma mettiti nel giardino, vedo un bel giardino lì dietro di te, potresti stare ancora meglio in quella posizione. Mettiti sul giardino. Troppo sole. Troppo sole. Troppo sole. Troppo sole. Allora guarda che c'ho Pietrangelo che mi ha scritto per tutta la partita. Mi ha detto che ti devo dire Supero Simen. Superissimo Simen. Ah bravo. Superissimo Simen. Veramente eccezionale sto ragazzo oggi. Veramente eccezionale. Oggi è stato il migliore in campo Francesco. Ha fatto il bello del tempo, ha deciso lui la partita anche quando il Napoli nel secondo tempo ha vissuto un periodo di stanca. Il solito periodo di stanca perché oramai veramente il Napoli ne ha pochissima di birra in corpo. Tu dici. Faceva molto caldo però. Oggi devo dire faceva molto caldo e l'hanno sofferto tutti. Anche loro, anche i giocatori proprio dello Spezia. Sì sicuramente però ripeto è stato uno Simen devastante. Ha segnato quando era necessario. Il primo tempo ha giocato benissimo facendo anche i movimenti giusti. Molto probabilmente è l'uomo più in fiducia in questo momento. Bravo l'uomo più in fiducia. Quindi quando un attaccante è in fiducia gli riescono anche magari cose che non fanno parte del proprio bagaglio tecnico. Comunque ripeto oggi quello che contava era vincere e il Napoli ha vinto. E questa è la cosa che ci fa andare. La cosa più importante era questa, hai ragione. Era vincere, mettere pressione, mettere in difficoltà le avversarie che adesso devono rispondere. Vedremo che succederà a Juventus Milan. Lo capiremo con calma. Potremo stare tra virgolette molto tranquilli. Io credo che questa sia una cosa importantissima per il nostro amato Napoli. Allora io direi con l'aiuto di Marco Mennilo di aprire le linee perché voglio sentire i tifosi. I messaggi anche sulla nostra diretta Facebook, siamo anche su Twitch. Quindi scriveteci, diteci la vostra e commentiamo questa partita live insieme a voi. Poi tornerò dai miei interlocutori, da Diego e da Max per chiedere alcune situazioni. Allora andiamo al telefono, pronto? 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 Sì, sei in diretta. Chi è Ciro? Sì, pronto. Ciao Ciro, ciao. Ciao Ciro. Diciamo che io ad agosto disse chiaramente quando si facevano le griglie e le classifiche disse che il Napoli ha una sola possibilità, puntare su Osimena. Soprattutto la capacità di Gattuso di abbientare la squadra Osimena. Oggi ho visto tanti lanci in verticale, cercarlo come si doveva fare. Chiaramente l'infortunio di Osimena ha penalizzato tutto il Napoli perché questa squadra... Assolutamente lo ha penalizzato. Questa squadra non può assolutamente prescindere da Osimena. Basti vedere anche il buon Mertens, ormai vecchia carrozza, come cammina nel campo. Ah beh, si è fatto pure male, lascialo sta, povero Tris. Per profondità. Si è fatto male, non è colpa sua. Per modo di giocare del Napoli di Gattuso, cioè non c'è proprio un altro giocatore come Osimena. Sì, però lo sai Ciro, adesso noi siamo tutti contenti, Osimena sugli scudi, ragazzi... Ah Osimena, voi l'avete giudicato, un giocatore di quella potenza fisica, con due mesi e mezzo di fermo. Doveva recuperare la condizione. Ma sta facendo cose eccezionali, dopo ti leggo dei numeri. Ma nel momento che rientra in campo è normale che fa un po' di fatica prima di rientrare. Ma io ti sto dando ragione al massimo. Se noi vediamo le ultime partite di Osimena... Però, scusami, Ciro, lo dicevo anche prima a Pietrangelo, questo ragazzo, ci siamo messaggiati tutta la partita, perché lui diceva, hai visto Osimena, hai visto... Ma noi siamo tutti felici, Osimena, ragazzi, Osimena, ve l'ho detto a Castelli Sangro, che era un giocatore che era una furia. Poi è chiaro, l'infortunio, il Covid, tutti i problemi. Però è chiaro, una cosa è giocare con la difesa o con il gioco dello Spezia, dove Zelischi, Insigne, lo hanno lanciato in profondità. Una cosa è che giochi contro Inter, Juve o Milan, che non ti lasciano fare questo gioco. Ma la mia cosa è che le ultime cinque partite di Osimena, quanti gol ha fatto ed è stato sempre il migliore in campo. Sì, sì, sì. E' un giocatore che sta salendo di condizione. I grossetti famosi men, partendo dalla sua area, non li può fare nessuno, perché nessuno ha quella velocità. E quindi è un'arma fondamentale per il Napoli, che io dissi ad agosto... Un'arma importantissima, certo, certo. Ha fatto solo in poche spezioni di partita nell'Ill. Disse, questa è un'arma fondamentale, ma bisogna costruire un gioco per lui. Poi è normale, ha iniziato anche bene il giocatore. Poi l'infortunio l'ha penalizzato. E certo, l'ha l'infortunio. E ha avuto tutto il Napoli. Adesso, come si diceva prima, ragazzi, a mio avviso è tutto nelle nostre mani. Certo. E' perché adesso c'è, diciamo, vi ricordate con Sarri? Come no? La famosa partita scudette che noi si lasciamo le penne a Firenze. Come no? E' adesso c'è in palio la Champions, e a mio avviso, attenzione, senza trascurare l'Udinese, però di nuovo si ripeterà che noi a Firenze ci andiamo a giocare la Champions. Sì, sì, a Firenze ci giochiamo la Champions. Come successe con quel Napoli di Sarri per lo scudetto. Brava, tale è qua. Si ripropone, si ripropone anche con Inter-Juve che sarà un'altra farsa in quella serata. Va bene, grazie Ciro. E' per la ragione perché Conte è uno che non si risparcia. No, però là sarà una farsa, dai, sarà una farsa, vedrai. E però domani non ci sarà una farsa. Ah no, domani no. Ma ragazzi, io ve l'ho detto, battere lo Spezia significa allungare anche le partite tra Atalanta e Milan e Juve-Milan. Questo è. Cioè domani Juve-Milan sarà partita vera e se il Napoli vince con l'Udinese, anche la partita tra Atalanta e Milan diventa partita vera. Eh no, perché poi noi abbiamo la Fiorentina. Eh lo so, abbiamo la Fiorentina. E allora Atalanta e Milan è proprio all'ultima. È all'ultima, però se ti avvicini poi non puoi sbagliare niente. Perché, capito, gli avversari non possono sbagliare niente. La Juve vincesse, noi prendiamo quel punto di vantaggio sul Milan. Sul Milan, ne l'ho detto prima a Diego, Ciro l'ho detto prima a Diego, ho detto guarda, non dovremo dirlo, ma forse è meglio che vince la Juve. Non dovremo dirlo, però è meglio che forse vince la Juve. Va bene, Ciro, grazie. Sì, sì, è meglio che vince la Juve. Perché poi la Juve ha, diciamo, quelle partite falsa come avete detto voi. Eh, perciò, io perciò ti dico. Va bene, grazie Ciro, ci vediamo lunedì. Quindi, lunedì, allora, voglio dirvi una cosa su Osimeno, la dico all'amico Pietrangelo, la dico a Ciro, perché questo che sto per leggere è un tweet di Paolo Ziliani, non è molaro, è Paolo Ziliani, grande giornalista, autore di Pressing, poi cacciato da Mediaset, andato via anche Pistocchi adesso. Non so se il buon Marco lo trova su Twitter, Paolo Ziliani lo trovi sicuro, anche account verificato. Allora, per farvi capire perché in alcuni momenti noi abbiamo chiesto di più da questo ragazzo, soprattutto in fase di gioco, perché questo ragazzo deve ancora migliorare, ma è giovanissimo. E dopo vi leggo dei numeri che sono da record. Allora, Paolo Ziliani scrive, ricordate quando Bolt, eccolo qua, grazie Marco, usa in Bolt, voleva darsi al calcio, correva fortissimo naturalmente, ma i piedi non c'erano. State leggendo Paolo Ziliani, non molaro, ecco Simen ai piedi che a Bolt, Pietrangelo, questo è anche per te, mancavano. I piedi che a Bolt mancavano. Esatto, ha i piedi che a Bolt mancavano e in quanto a correre va veloce come il vento, come nell'azione del 2 a 0 allo Spezia. Quindi il ragazzo, è chiaro che questo ragazzo deve ancora migliorare, deve ancora, però questo è un ragazzo che è ancora un minimo acerbo, che però può fare grandi cose. Questa è la situazione. Ma ce lo siamo detti prima. Ce lo siamo detti prima, è così, è così. Allora, sentiamo un'altra telefonata, dai sentiamo un'altra telefonata. Caduta, intanto De Laurentiis, De Laurentiis ha dittato, ha dittato De Laurentiis, bravo Cattuso, brava la squadra, bravi Goliador, Zelischi, Lozano e Dosimenn. Quindi tanti, tante lodi, 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 direbbe il comitato, no? Da parte di De Laurentiis, dopo caso mai... Lodi e squisitezze. Esatto, vediamo anche il tweet di Aurelio. Allora, pronto? Pronto. Chi è? Sono Sergio. Oè, Sergio, Marco ti chiedo un po' di audio in studio perché li sentiamo lontani i nostri amici. Sergio, eccoci qua. Allora, riconoscere che ha fatto una bella partita, come è che ci porta l'anno? Sì, è la verità. È la verità. Siamo obiettivi, quando si gioca bene, si gioca bene e il giocatore va eroggiato. Quando bisogna, tra virgolette, criticarlo, va criticato. Certo, assolutamente. Ma noi dobbiamo essere sempre nel giusto. Sempre con il giusto equilibrio. Bravi. Qua ci ha fatto una buona partita. Brava. È un ragazzo che potenzialmente può crescere. Può fare grandi cose. Il tempo ci darà ragione o ci darà torto. Veramente può fare grandi cose. Comunque la squadra lo deve servire sempre. Io vedo Simen un po' come il giocatore dell'Inter, il centroavanti. Lukaku? Lukaku. Perché poi ha scritto partita dominata, bravi tutti. Bravi tutti. Bravi tutti. Bravi tutti. Questo è vecchio questo qua. Anche quello che hai detto tu. Ah, anche quello. Quello che hai letto tu forse è stato pubblicato altrove. Allora era vecchio, era vecchio. Scusate, perché credevo che sia un tweet. Mi è apparso questo tweet sul telefonino, ma credo sia quello che sia vero. Mi fa piacere che anche il parere di Max concorde con quello di Ciro e con il mio. Sì, assolutamente. Ha fatto una bella partita, mi fa molto piacere. Siamo tutti felici. Anche perché io credo che Max sia un competente e quindi giudica sempre con obiettività ed onestà. Sì, no, intanto quello di De Laurentiis è nuovo perché il 17 maggio, 8 maggio alle 17 maggio, l'ha tolto forse. Secondo me l'ha tolto. L'ha tolto però. Sì, è stato tolto. Sì, credo che sia stato tolto per un attimo. O c'è stato un refuso o è stato tolto. O c'è stato un refuso o qualcosa. Sì, l'ha tolto però. Oggi si è vista anche una grande partita di insignie che tutto ha fatto tranne che l'ha attaccato. Bravo, oggi l'ha rimesso? L'hanno rimesso. Che cosa ha cambiato? In questo momento è stato... Ma ha cambiato qualcosa? Ha aggiunto un bravico alleatore Zelistro. No, questo già c'era. No, no, già c'era. Era così, era uguale. Forse c'era qualche refuso nei nomi? Può essere. Ah, sì, forse nella scritta di Osimè. Sì, sì, c'era un errore su come si scrive Osimè. Vabbè, facciamo forse. C'era un refuso sulla scritta di Osimè. No, ok, vabbè, perfetto. Comunque allora, dimmi Sergio, su insignie. No, no, mi fai dire una cosa. Voglio mandare al nostro figlio del padrone del vapore di non mettersi quegli asciariti che aveva oggi. Non ti sono piaciuti gli occhialini? No, non mi sono affatto piaciuti. Vabbè, glielo diciamo, glielo diciamo. Sergio, però hai detto una cosa intelligente. Faccio un giro con Diego e con Max sulla posizione di insignie. Io avevo detto a inizio partita, spero di rivedere un insignie più propositivo. Ragazzi, oggi insignia ha fatto il centrocampista, il difensore. Si è trovato sfortunatamente sul gol dello Spezia, male forse in posizione, ma poi era in altre occasioni dello Spezia lì a recuperare palloni. E devo dire un insignie come al solito assist man, ma soprattutto un insignie che ha giocato poco in fase propositiva. E secondo me, e io avevo paura che non era al top, secondo me è un Lorenzo che sta, come dire, anche gestendo le forze proprio nel finale di campionato. Sergio, sei d'accordo? Poi Diego e poi Max. E' un piacere che dopo tanti anni che telefono mi hai riconosciuto che ho detto una cosa intelligente. Ma quando mai? Ma quante volte ne abbiamo parlato? Una battuta. Eh, vabbè, meno male. E da tante cose che si dicono, un intelligente può andare. Va bene, infatti. Però è così, si sta un po' trattenendo, sta misurando le forze? Sì, sì. Facendo bene però, eh, facendo molto bene. Sta usando le forze. Va bene. Sergio, grazie. Grazie sempre a voi e fortunati. Allora, vai a dollare, vai. Mai, mai. Diego e poi Max su Insigne. Dai, ditemi la vostra. Insigne, mi trovi pienamente d'accordo, che ne abbiamo parlato anche prima, ha fatto un poco, poco, poco più di Cagliari. Eh, ha fatto poco, poco più di Cagliari. Diciamo, non è il classico e il solito Insigne. Non è quel trascinatore che abbiamo avuto in altre partite. Però due minuti ti trovo la mappa di Insigne, così vediamo. Dopo vediamo. Allora, Max, che ne pensi di Insigne? Aspetta, aspetta, Max, che adesso non ti sentivamo. Vai, ripeti, vai. Sì, credo che oggi Insigne sia stato più utile in fase di copertura. Infatti l'abbiamo visto quasi fare un ruolo da mezzala. Da mezzala, sì. Andava a stringere, andava a stringere in mezzo e si trovava comunque a dare una mano al reparto difensivo. Quindi un Insigne insolito, un Insigne che in questo momento, come dicevi tu, molto probabilmente è stato usando le forze e il suo apporto è molto più indispensabile, forse in fase di copertura, piuttosto che in fase di impostazione. Ripeto, per quanto mi riguarda, io sono uno che comunque premia la qualità e siccome penso che Insigne, soprattutto in un campionato come quello italiano, possa fare la differenza per qualità, io francamente lo preferirei più a dare una mano agli attaccanti piuttosto che a farlo giocare da mezzala per farlo aiutare la difensiva. Però queste sono scelte che non appartengono a me, ma sono scelte che appartengono a Gattuso, quindi noi le rispettiamo. Claudio, tutto dipende da Juve-Milan, Carmine dice che è peccato i due punti persi con i Sardi, Nino Cioppa, contentissimo per i tre punti e per il mio campioncino Lozano. Poco spezia, domanda per Maxi, in vantaggio di tre gol, sostituire Zerischi con un attaccante e non con un centrocampista, Menters non al top e future conseguenze. Nino, mi fa piacere che sei contento perché all'inizio della partita spero che era solo scaramantico quello che tu hai detto. Contenti anche noi per Lozano. Alla domanda Max può rispondere, in vantaggio di tre gol, sostituire Zerischi con un attaccante e non con un centrocampista? Vabbè, ma là era per l'operazione Mertens, credo, per far giocare Mertens e per far continuare a giocare Osimèn. Credo che quella sia stata la scelta. Zerischi poi, ragazzi, ci serve con l'Udinese. Non ci dimentichiamo, ragazzi, che noi martedì giochiamo con l'Udinese, Udinese che oggi ha pareggiato, partita che contava pochissimo tra lei e il Bologna, ma ha un De Paul che sta sempre sugli scudi. Voglio sapere la tua, Max, veloce. Sì, Francesco, molto probabilmente, volendo risparmiare Zerischi, io francamente non l'avrei sostituito con Mertens, perché io credo che Mertens sia arrivato al capolinea, anche da un punto di vista soprattutto fisico e mentale. e a quel punto io avrei messo Bakayoko per arginare ancora di più il centrocampo, anche per far respirare un attimo Fabian, perché comunque anche Fabian nel secondo tempo è stato messo sotto pressione. Quindi magari avrei spostato più Fabian nella postazione di Zerischi e avrei chiuso la cerniera centrale di centrocampo con Dem e Bakayoko. Però, ripeto, siamo sempre là, le scelte sono dell'allenatore e noi non possiamo fare altro che rispettare. Però penso come Nino Cioppa che è in questo momento, ripeto, Mertens non era proprio all'altezza di giocare. Allora, tweet del Napoli su Mertens sostituito per un trama distorsivo alla caviglia destra. Questo è il tweet molto veloce del Napoli. È chiaro, ragazzi, che se è la caviglia quella con l'Inter, io credo che per Mertens, se non è finita la stagione, quasi, eh? Perché, insomma, sicuramente le prossime due la vedo difficile, perché in una settimana solo se si gonfia, già tra oggi e domani, lunedì, fai casomai gli accertamenti, non può giocare... No, martedì penso che può anche non venire proprio al Maradona e se ne parla poi casomai con la Fiorentina se lo porti in panchina. Allora, vi devo, e poi torniamo al telefono, dei numeri su Osimène perché sono numeri importanti, ragazzi. Allora, è il più giovane in doppia cifra da due stagioni. Solo Alaland fa meglio di lui. Con i due gol allo Spezia, sentite, eh? Victor Osimène, classe 98, va in doppia cifra nelle ultime due stagioni. L'Azzurro è al secondo posto tra i giovani attaccanti, dietro solo ad Alaland, classe 2000, è guagliato nello speciale classifica Mbappé, intanto stiamo vedendo le posizioni di Osimène, è superato il classe 97 Rashford. Lo riporta il sito delle statistiche di Opta Paolo. Io non ho mai capito perché si chiama Opta Paolo. Vabbè, ora si chiamano più solo Opta. Io non ho capito perché ancora la Serie A non c'è la foto di Osimène e di Demme. Ma è incredibile, eh? Dopo tante giornate. Vabbè. E poi c'era un altro dato che spero di recuperare fra un secondo. Ah, eccolo qua. Dieci gol in Serie A dopo 1.289 minuti per Osimène ha fatto addirittura in azzurro meglio di Cavani e meglio di Guain. L'attaccante classe 98 raggiunge così la doppia cifra in Serie A ma non solo. Il Nigerano ha raggiunto i primi dieci gol in Serie A con solo 1.289 minuti per un rendimento che non aveva uguali. Persino mostri sacri come Cavani e Iguain impiegarono più minuti per raggiungere i dieci gol. È chiaro che questa classifica si conteggia solo nei minuti giocati, eh? Perciò. Il Matador fece dieci gol dopo 1.336 minuti mentre Iguain 1.458 Ragazzi, questi sono numeri veramente molto importanti per Osimène. Allora, vado avanti Gennaro dice mamma mia che paura questo Real Spezia hai ragione Gennaro, per fortuna è andata tutto bene. Voglio vedere il Cagliari in B e salvo il Benevento dice Antonio Pasquale Giavarone scrive Forza Napoli Vamos Salvatore Buon pomeriggio Francesco Osimène è il tempo è galantuomo giusto sì, sì, è vero Davide un ragazzo umile questo credo sia la più grande forza umiltà e adattamento continuo al gioco e diventerà una grande plusvalenza Luca Donzelli io direi anche Fiorentina Lazio da vedere come partita sì, è importante forse la Fiorentina dovrebbe vincere o almeno pareggiare salutiamo Francesco Navarra ancora Pasquale Giavarone dice Osimène sta dimostrando il suo valore Raffaele vuole Juve Milan pareggio Donato scrive grande Victor Claudio annunziata da Monza dice grande Napoli Maria Lupo lo è già per ora bisogna vedere cosa pensa Insigne l'anno prossimo comunque Insigne mi è piaciuto ha fatto quello che doveva fare oggi e che gli toccherà credo anche nelle prossime partite Davide scrive il caldo ha inciso giocare alle 15 ha uno svantaggio forza Napoli sempre da Vienna Mario Koch dice complimenti a Gattuso per le scelte Giuseppe Napolitano buon pomeriggio a tutti ma Max è sceso dalla nave sì è sceso dalla nave adesso dovrebbe essere rientrato in macchina lo vedo frizzato così ma ritorniamo da lui ci piace ricordarlo così esatto allora Grande Napoli per Dan Insigne quasi mezzala per me è più utile che attaccante di fascia allora Antonio Petrino dice tranquilli riavete Ospina nelle prossime partite speriamo bene no dai però Meretta ha fatto bene Antonio e Maria Lupo gli risponde no ha fatto bene saluto Nina Banariello Giuseppe una squadra come il Napoli deve andare in Champions Paola Napolitano ottima partita ottima prestazione sono arrabbiato ancora per domenica scorsa in questo momento Simen fa e spero faccia ancora differenza no no penso che che fa più fresco dove sta lui perché è in montagna il nostro Max allora attendiamo i risultati da stasera e domani va bene grazie grazie a tutti gli amici che ci stanno scrivendo continuate a farlo sulla nostra diretta Facebook andiamo andiamo al telefono pronto direttore un pomeriggio ciao chi è sono Enzo Danato oh Enzo ciao mi ero preso una settimana di riflessione ancora arrabbiato per la partita con il Cagliari con il Cagliari allora faccio una premessa eh Osimene devastante credo che oggi a parte l'Inter nessun'altra squadra in Europa abbia un uomo di reparto da solo fa le partite oggi Osimene ha battuto lo Spezia ha preso e chiuso la partita un'altra cosa volevo parlare purtroppo sono anni che insignia purtroppo si sacrifica a fare il terzino eh ragazzi è bravo hai detto purtroppo si sacrifica devo intervenire a comprare i terzini né Mario Rui né Goulam né Usai stiamo buttando Lorenzo un patrimonio del Napoli non può fare più il terzino direi tu basta basta perché in alcune partite diventa un terzino è un peccato è un patrimonio del Napoli basta per dire questa cosa cioè troviamo una soluzione per queste altre due o tre partite Mancini in Italia cioè è il primo giocatore che Mancini vuole in nazionale agli europei ma infatti gli altri che vedono giocare terzino come lo vediamo noi cioè non si sente direttore no no Enzo allora hai pienamente ragione aggiungo che credo che sia una scelta di Gattuso ma perché Lorenzo gli dà grande grande sicurezza soprattutto nella lettura di certi movimenti ma perdiamo di fare altri gol eh lo so eh lo so infatti questo è perdiamo di fare il 4 a 0 dopo 10 minuti dopo 20 minuti del secondo tempo ma questo è un problema perdiamo in ampiazza nel campo cioè è devastante avanti insignia purtroppo non può fare il quadrato no 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 non ce l'ha non ce l'ha non ce l'ha no ma poi allora scusami Enzo tu mi hai poi rifermato stavo dicendo una cosa tu avete parlato dell'Italia di Mancini allora eh insigne infatti nazionale questo non lo fa però qui c'è una doppia situazione non solo la fascia ma io l'abbiamo visto nelle diagonali fare addirittura il centrale nell'aria si è trovato l'ho detto già prima due volte proprio sulla linea sul dischetto del rigore quindi questo non lo può fare insigne io sono sfondo una porta aperta con me però come dire in questo momento dobbiamo come dire usarle tutte e va bene anche un insigne super sacrificato l'unica mia paura che lui adesso ha un po' il freno tirato ma perché perché sta gestendo le forze perché giustamente non può fare e andare avanti e dietro perché se dopo dieci minuti ti prende una munizione lui ha più responsabilità hai capito lui è uno che si sacrifica molto per il Napoli ma ovviamente quanto può durare il stradio ma io credo che l'anno prossimo non si può fare così ecco servono due elementi diretto buon pomeriggio ciao buon pomeriggio e buona domenica ci rivediamo lunedì guarda la mappa di guardate qua ragazzi guardate là insigne anche dall'altro lato ragazzi anche dall'altro lato cioè guardate insigne ha giocato su tutto il campo cioè guarda quello che dicevamo prima guarda il centro dell'area di vigore si 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 ma infatti vedi lui si fa trovare addirittura nel primo tempo che è gialla quindi è stato ma torna torna tantissimo guardate il baricentro il pallino blu è il baricentro diciamo il punto medio e nel secondo tempo è ancora più arretrato che del primo cioè queste sono immagini che ci devono far pensare è chiaro che insigne ragazzi non gioca non può giocare tutte le partite là non può giocare tutte le partite là allora Alberto ci dà questa notizia poi vado da Max che ho rivisto allora serve un uno X domani sera Juve Milan perché se vince il Milan e poi il Napoli arriva a pari punti con rossoneri e bianconeri nella classifica avremo questa situazione negli scontri diretti Juve Milan Napoli tutti a sei punti ma il Napoli sarebbe fuori per una peggior differenza reti negli scontri diretti a meno che il Milan non vinca con quattro gol di scarto domani sera allo stadion ragazzi perciò vi dico vittoria Juve io addirittura più che pareggio voglio la vittoria proprio della Juve è dura dirla così è dura dirla così ma è così Max è sofferente ha trovato la posizione albero vai modalità linea verde esatto modalità anche col maglioncino verde vedi modalità Luca Sardella bravo Luca Sardella ti manca la coppola e la chitarra è la mano del capo ma non ti muovere perché c'è il sole dietro proprio che spinge vabbè vai vai allora dai voglio sentire la tua sono no Francesco io te l'ho detto fra Juve e Milan bisogna ti fare Juve inevitabilmente bisogna ti fare Juve domani sì è così su Insigne anche perché io su Insigne Francesco te l'ho detto prima te l'ho sottolineato la sua posizione oggi è stata una posizione praticamente da mezzala a me non piace in quella posizione non ci posso fare niente molto probabilmente sarà più utile alla squadra sarà un disegno tattico voluto dall'allenatore ma in tutta franchezza io giovamento in fase offensiva non ne trovo e trovo anche molto più dispendioso il lavoro che lui debba fare molto dispendioso poi ripeto le scelte sono dell'allenatore sono di gattuso noi non possiamo fare altro che prenderne atto e rispettarle però in tutta franchezza un Insigne così difensore così diciamo in una in una posizione di campo che non siamo abituati a vederlo francamente a me non mi convince ti dico proprio la verità poi per quanto riguarda la partita di domani io senza calcoli e senza tabelle sono molto più terra terra e ti dico quello che penso io penso che la Juve alla fine la porteranno in Champions quindi allora è meglio io questo ti dicevo è meglio è meglio cacciare direttamente il Milan piuttosto che sperare che la Juve poi non riesca a qualificarsi la Juve la porteranno per mano alla fine la porteranno per mano quindi come si fa con i malati verrà accompagnata piano piano sulla sede a rotelle ma verrà accompagnata vabbè vabbè bravo bravo mi piace anche la la situazione allora dobbiamo andare in pubblicità torniamo fra 30-60 secondi e allora eccoci tornati Massimiliano in collegamento Diego qui in studio i nostri amici da casa scriveteci anche al 342 38 12 922 cui vado a leggere subito qualche messaggio teniamo le linee aperte quindi aspetto telefonate non so se ce n'è già una allora vabbè aspettiamo qualche telefonata allora il nostro Alberto mi dava sempre la notizia attenzione sulla questione delle squalifiche Juve Barcellona addirittura anche il Real poi si pensava forse il Milan si è tirato indietro nel momento giusto l'ho detto Alberto l'ho detto all'inizio puntata non ci mettete nessuna speranza non ci mettete nessuna speranza visto che siamo nell'anno di Dante perdete ogni speranza voi che entrare quindi non ci pensate troveranno qualche scamotace troveranno un multone si cospargeranno il capo di cenere ma secondo me non avranno nessuna squalifica poi se arriva la squalifica va bene tutto però mettiamoci noi dalla parte della ragione mettiamoci noi al quarto posto almeno poi se la squalifica ci entrerà la Lazio ci entrerà la Roma non lo so questo non ci interessa volendo andare avanti a citazioni dopo Dante io cito una una seconda interpretazione di un pezzo di Gigi Dug che dice come mai come mai la Champions League tu non la vinci mai esatto bravo siamo su questa allora che c'è sull'estagram di Edlam diciamolo in diretta perché è un'immagine che sta girando anche su web e facciamola girare aspetta vado a giro dubbio che dice quanto sono forti i nostri pezzini ma non mi viene da ridere anche la cosa è la gente si stupisce ancora vabbè insomma sta succedendo di tutto la giro a Marco no con questo questo profilo che qualcuno pensava che era un fake invece no non è un fake è un secondo profilo vabbè allora bello Francesco Dabagoli sulle citazioni al piccolo spezia va picco e questo è perfetto e direi che con questa possiamo smetterla con le definizioni con le citazioni allora va bene Giacinto se la prende con chi criticava Osimè Daniele ottima gestione della partita questa volta da parte di Gattuso Domenico da Napoli buona la prima ma teniamo d'occhio il traguardo finale non me la sento di discutere sulle pagelle in questo momento dico finalmente Osimè Enzo da Pompei buonasera Francesco tutti gli ospiti è una grande soddisfazione vedere il Napoli adesso al secondo posto almeno fino a domani sera speriamo bene per il proseguimento di questa Champions direttore Osimè devastante batte da solo lo Spezia la catena con Di Lorenzo e Politano è da numero impressionante un giocatore che fa reparto da solo batte tutti i soldi spesi Osimè si è preso il Napoli e ne siamo felici Enzo siamo felicissimi lo dico io so che di calcio non riuscirete mai a capire che ciò che si vede è clamoroso Insigne vabbè questo amico Riccardo che dice Insigne è stato il migliore dello Spezia no dai io conto almeno 5 assist per lo Spezia che solo per la pochezza della quale no vabbè Riccardo mi rifiuto di leggerti ah facciamo rivedere a Riccardo che cosa la schermata della mappa termica di Insigne Lorenzo sta giocando più dietro ragazzi Lorenzo non fai il difensore è chiaro che certe giocate poi possono risultare un po' fuori insomma lui sul gol praticamente guarda l'area di rigore non la vede quasi ma ragazzi ha fatto una partita di sacrificio dai Riccardo con tutto il bene possiamo possiamo dire tutto quello che vuoi puoi dire che tu capisci di calcio e gli altri non lo capiscono ma ti prego Riccardo guarda di questa mappa termica e guarda che cosa ha fatto Insigne poi è chiaro Lorenzo non fa il difensore su quella palla in aria lui fa il centrale non riesce a contrastare il giocatore dello Spezia che fa un gran colpo di testa che meretta ragazzi la presa gliela butta addosso a piccoli e là poi è gol però ragazzi vi prego vi prego dai Insigne sta facendo qualcosa di importante caro direttore me la voglio godere tutta questa vittoria non c'è posto sul carro perché ha offeso Cattuso e giocatori come Osimena ovviamente non vi riferisco alla vostra trasmissione grazie Milo perché vedi quello che è così ma allora Riccardo continua a dire ha fatto degli sbagli ma è chiaro lui non fa il difensore ma Riccardo ha fatto una partita spettacolare di sacrificio corre a destra corre a sinistra poi è poco lucido in attacco e ve l'ho detto sta tenendo un po' il freno tirato ecco vabbè andiamo avanti c'è una telefonata? Pronto? Pronto Rosario da Piazzetta Poterico ciao Francesco ciao Pietro ciao Max hai visto Max come sta bello? Mi fai dire da Massimiliano dove abita? Massimiliano è in trasferta in un no perché ci porto qualcosa da mangiare disse che la moglie l'ha cacciato fuori Max dove abita? ti porto la mia no ma è in trasferta è in trasferta perciò ha lasciato il Titanic ha lasciato la nave per andare a piedi nella macchina brava esatto per la macchina esatto che cos'è eccolo qua questo è Edo de Laurentiis la storia di Edo de Laurentiis quando sono forti i nostri terzini vabbè vabbè sta facendo l'ironico è scatenato de Laurentiis eh? è scatenato de Laurentiis sta scatenatissimo sta lavorando nel secondo terzo posto proprio soldi al buco allora ma vabbè senti Franci fammi dire che il Napoletano è un voto a bandiera esagerato eh vabbè ma lo sai come siamo noi dire che Napoli arrivava sesto o sessimo in campionata e ora dire che arriva quasi secondo terzo addirittura ha criticato Simen che aveva la gomma in bocca io non lo so adesso è un fenomeno cioè non era bravo la gomma in bocca è veramente qualcosa di assurdo la critica che aveva gomma in bocca esagerata questi politani non ce l'ha quelli si mettono la gomma in bocca per l'ostreste questo si vabbè ma poi ognuno 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 ma va bene non era un fenomeno prima e non è uno scherzo adesso cioè teniamo piedi per terra perché abbiamo detto noi Franci deve crescere deve crescere deve crescere no l'altra cosa avete ragione al cento per cento praticamente per mezzo di un saio ma ero lui in figlia deve fare il terzino è quello che stavamo dicendo quello che stavamo dicendo poi ci ha fatto un culotando bravo se vedete Lorenzo sta in forma Polizano non rientra più come una vostra no 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 quindi se abbiamo un Hermos Palmieri oppure un terzino terzino che fa anche la fase di 20 quindi non rientra no no ma infatti purtroppo io non voglio dare la colpa ai Sai ma là doveva stare i Sai questo è un altro errore con il Cagliari se vedete ma i Sai secondo me non sta nella posizione giusta proprio dove c'è Insignia ma là è l'uomo dei Sai cioè Insignia sta proprio là esatto là non ci deve stare è un altro errore di Usai è vero che sta giocando a sinistra però le coperture dal lato sinistro è zero muovere in Vigne povero Insignia che deve fare addirittura il terzino povero Insignia povero Insignia perché i migliori in campo guarda ragazzi che Lorenzo è Demme Demme tutta la vita Demme bene io lo dicevo lui doveva sempre giocare è Demme ragazzi mille polmoni poi un'altra cosa Demme voglio fare una domanda a voi ma Hermos ma che errore ha non lo so non lo so ma perché forse è un portafortuno che fa la schiena non lo so Hermos Hermos non ha una posizione ben definita e questo è il vero problema Mertens quando è entrato si è entrato al posto di Mertens perché lì casomai ma diciamo il ruolo era il quartista dietro la punta dietro la punta anche perché poi è entrato Petagna quindi un gioco un po' diverso ma poi un'altra cosa Francesco è proprio sfortunato Mertens ma che cos'è è una cosa indescrivibile ecco Diego Demme ecco la mappa termica di Diego Demme ragazzi anche qua anche qua Diego Demme eccezionale vediamola nel movimento è un Diego Demme è un Diego Demme è un'altra volta ma è sempre cosa? si pare che sia la stessa capiglia mamma chissà è proprio sfortunato sfortunato questo ragazzo è per capo ma pure Pulibali cioè chissà è proprio zero ce la potevamo anche giocare con l'Inter per capo sì 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 ragazzi ci sentiamo lunedì ciao grazie una buona domenica buona domenica mi dici l'indirizzo di Max gli porto qualcosa sì dopo te lo mando dopo te lo mando ma intanto credo che si sia si sia bloccato non è ecco purtroppo secondo me qualche problemino di connessione per il buon Max allora ce l'hanno con Napoli perché sono gelosi vorrebbero essere come noi ma noi siamo un altro mondo forza Napoli sempre Salvatore grazie Salvatore in poi Francesco Navarra dice ma tu l'hai visto l'assist che ha fatto Insigne sia sul terzo gol ma credo anche sul quarto forse ha fatto assist no vabbè l'aveva data a Osimene e poi Osimene l'aveva data allo Zal però sul terzo gol ed Insigne che fa un pallonetto a Osimene che è delizioso è una cosa che abbiamo già vista se non ricordo male eh infatti non mi ricordo la partita però l'abbiamo già vista sì 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 comunque dai bobo allora Salumi Spiezza scrive Davide Forza Napoli da un altro amico ci scrive credo da dalla Spagna sì credo che ci scrive ah dall'Argentina buona Stardes eh che bello vedi questi amici che ci scrivono anche da tutto il mondo grazie allora ancora Riccardo ma io parlo degli artisti che ha fatto allo Spezia non parlo della posizione ha giocato male e basta vabbè Riccardo rimani delle tue convinzioni io vi giuro non posso allora è così è così allora andiamo andiamo al telefono ancora caduta vabbè non ci sono dichiarazioni Diego niente per i quali stavo guardando niente nulla proprio abbiamo visto il tweet tweet insomma di De Laurentiis c'è italiano che ha parlato a Sky dai allora leggiamo italiano dai dai leggiamo italiano allora ha parlato a Sky Sport c'è poco da dire è stata una partita nata male i meriti sono tutti da dare al Napoli che con l'atteggiamento aggressivo che ha avuto non ci ha permesso di giocare affrontare un Napoli in questo stato è difficile per tutti figuriamoci per lo Spezia nel primo tempo siamo stati troppo timidi poco coraggiosi nelle ultime tre partite dovremmo essere diversi poi c'è una domanda che gli fanno il suo incubo stanotte sarà Osimeno o penserà alla prossima sfida con la Samp risponde Osimeno mette in difficoltà tutte le difese in questo momento sta bene se a lui che compagni oggi per noi era dura abbiamo cercato di prepararla per arginarli ma non c'è stato nulla da fare quello che dobbiamo cercare di fare è mantenere questo vantaggio in classifica state sentendo la pressione psicologica può essere però forse l'unica fortuna che abbiamo è che mancano solo tre partite di cui altre due in casa vuole rimanere in categoria se si affida alle ultime due partite allora vogliamo vedere un attimo la schermata è chiaro che adesso non è più aggiornata con il Napoli che è salito a 70 punti senza la partita con lo Spezia però non ci dimentichiamo che ci sono partite importanti anche quel Fiorentina Lazio è una di quelle gare toste toste veramente quindi bisogna capire cosa succederà io credo anzi sono convinto che la Lazio possa battere però la Fiorentina e quindi la Lazio rimane attaccata io dico che è un bene perché mette pressione a tutti per il Napoli non è un bene eventualmente la vittoria della Fiorentina perché la Fiorentina rimarrebbe a 35 punti quindi con un po' di preoccupazione questa vittoria del Napoli ferma lo Spezia e mette la possibilità domani a Cagliere e Benevento di poter respirare perché addirittura anche un pareggio anche se andrebbe peggio per il Benevento un pareggio potrebbe ancora mantenere aperte le speranze sia per i Sanniti che per i Sardi anche perché il Torino ricordiamo poi anche loro sono a 34 punti anche se il Torino ha una partita in più da giocare Napoli con il silenzio Stambo perché non c'è nulla no niente niente tranne i tweet di De Laurenti che ormai li abbiamo capiti allora continuate a scriverci anche sulla nostro 342 38 12 9 2 2 ancora vediamo se ci sono telefonate non so abbiamo Max no allora andiamo al telefono pronto pronto Francesco caro dottor Molaro grande grande Peppe grande Napoli piccolo Spezia bella vittoria dai bella vittoria ci voleva direttore assolutamente questa no ma ripeto è una vittoria importantissima perché mette pressione agli avversari mette pressione alla Juve al Milan mette pressione alla Lazio mette pressione all'Atalanta che domani è una partita semplicissima però ragazzi comunque noi ma tu hai capito che noi non abbiamo concesso un'occasione allo Spezia bravo sono d'accordo ce le siamo create da sole quello del culo l'hanno fatto di carambo lo so nemmeno che lo facevi bravo bravissimo bravissimo sono d'accordo con te bravo bravo Peppe diciamolo per una volta questo Spezia di cui io avevo non timore ma avevo rispetto perché è una squadra che gioca bene al calcio perché Osimèn fa giocare bene al calcio scusate Osimèn l'italiano fa giocare bene al calcio le sue squadre però ragazzi l'ho detto in prepartita guardando i nomi di questa squadra sono dei bravi giovanotti che stanno facendo un buon campionato ma nulla più diretto ho visto bene ho visto bene Gerischi come sempre sempre bene ho visto bene Mario Temme bravo Temme Diego Temme bravo Temme bravo ho visto bene Politano sì sì Politano bene Benino Insigne e la difesa raccomando me la passa a Retto diretto onestamente meno male meno male questo è importantissimo perché lo sai questi due giocheranno anche domenica scusatemi martedì con l'Udinese ho capito direttamente e giocheranno penso anche con la Fiorentina ma con la Fiorentina ce la fai con i Bariti e tu? no io penso di no io penso di no penso proprio di no credo che ho capito che giochiamo ancora l'Udinese eh? giochiamo martedì adesso sì giochiamo martedì a che ora? alle 20 e 30 o 20 e 45 noi saremo in diretta fino alle 18 e 45 con il pre partita e poi post partita come di consueto ok allora ci risentiamo buona serata e forza grazie a Peppe grazie grazie a Peppe allora ragazzi continuate a scriverci 342 38 12 922 chiamateci 506 77 64 vediamo se recuperiamo Max almeno per fargli fare un saluto ho capito che oggi la connessione non era delle migliori Diego a prescindere da tutto la difesa si è comportata bene diceva anche bene Peppe la difesa si è comportata bene non sono state queste grandi occasioni l'unica cosa che ne abbiamo anche parlato mentre guardavamo la partita quel gioco dietro in area di rigore che rischiamo sempre di perdere palle e dare diciamo la possibilità di attaccare alla squadra avversaria però per il resto è stata una partita veramente molto soft di difesa abbiamo tenuto abbiamo tenuto bene allora vediamo un po' se ci sono dichiarazioni come dicevamo l'italiano ha parlato a Sky l'abbiamo letto vediamo in conferenza Napoli in stato di grazia serviva un miracolo qui il commento della SSC Napoli è un pomeriggio tutto azzurro Osimè supersonico poi 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 vediamo vi abbiamo detto dei record vi abbiamo detto anche dei minutaggi legati a Osimè Cavani e Guain per quanto riguarda i gol intanto ha parlato Pioli dice con la Juve non è decisiva ma sarà strano l'infrasettimanale quindi Pioli si preoccupa più del futuro che dell'immediato diciamo presente è chiaro che per il Milan vediamo un attimo di nuovo là voglio vedere l'infrasettimanale con chi giocano loro perché sarebbe dopo questa partita c'è c'è la gara col Torino per il Milan c'è la gara col Torino è fondamentale questo Torino incontrerà diverse squadre eh sì no no ma è importante perché il Torino non è salvo per niente soprattutto questo risultato del Napoli che risucchia anche lo Spezia dentro ah poi c'è il Cagliari e poi c'è l'Atalanta eh loro loro c'hanno loro rischiano veramente di fare pochi punti in questo in questo finale di stagione poi vediamo che succede mentre nell'infrasettimanale la Juve ha il Sassuolo eh Sassuolo che potrebbe rosicchiare punti soprattutto perché si spera nell'Europa ma vediamo allora vediamo se c'è un'ultima telefonata no allora l'aspettiamo ragazzi proprio l'ultima proprio in fase di chiusura Diego ti chiedo abbiamo parlato della della difesa parliamo anche del centrocampo Fabian bene ma Demme è un motorino è questo che ha fatto grandi cose la classifica del centrocampo Zieliski Demme Fabian Solis ecco questo questo è il tipo di gioco però è chiaro che quando Demme c'è Francesco e Napoli è un altro tipo di partita gioca gioca tutt'altra maniera quando Demme informa Zieliski fa gli inserimenti come abbiamo visto sul primo culo che poi guarda che i gol di Zieliski hanno fatto una bellissima azione sì sì primo gol eccezionale controllo Simen per Politano Politano per Di Lorenzo Di Lorenzo la mette in mezzo e poi il gol di Zieliski è meno facilissimo perché l'angolata proprio dal lato opposto quindi assolutamente veramente è una bella azione Demme è spettacolare bravo bravo allora vediamo se c'è un'ultima telefonata pronto? sì pronto ah c'è Mimmo ciao Mimmo buon pomeriggio a te ciao Mimmo buon pomeriggio allora Mimmo la cosa più bella che fa un tifoso sia esso giornalista sia esso opinionista sia esso tifoso semplice è quella di silenziarsi cioè tacere sui difetti sui pregi su questo su quell'altro giocatore perché noi in questo momento dobbiamo dare solo tranquillità non criticare magari la mancanza di uscire del portiere in qualche occasione il fatto che in fine sia stato sul calzato per generosità e si è trovato in un posto sul vuole dove non deve stare queste cose possono essere analizzate esattamente tra tre partite perché non c'è perché qualunque parola diciamo in positivo o in negativo in questo momento si può creare perché non è vero questo modo di una cosa che non è vero che i giocatori del Napoli l'allenatore non vivono la città e non seguono questo tipo di trasmissioni i media li seguono stanno come no ci sta chi ha le spalle larghe è qualcuno che può anche togliere di serenità io so benissimo sappiamo noi che Fabio Ruiz è molto sacrificato in quella posizione quando non abbiamo possesso palla sappiamo benissimo che De Lissi ama giocare dalla tre quarti in su le sappiamo e per lui si sacrifica in fine perché è un generoso perché vuole bene alla maglia alla squadra e tutto quanto ed è di qua tutte queste cose noi ce le raccontiamo sempre però mai come questa volta le ultime tre partite sono determinante e determinante non la squadra non Gattuso non la società ma il nostro comportamento si ma il gruppo proprio no proprio tutto il gruppo si ma il gruppo inteso come una tifoseria che non ha potuto godere sul campo quest'annata perché io dico a tutti e mi fermo e poi ti lascio a fine tradizione si si vai 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 facciamo tutto al contrario togliamo Lukaku al Conte ah beh c'è abbiamo a disposizione togli Lukaku all'Inter arrivano arrivano sesti voglio dire Mimmo e Osimène ce l'hai per tutto l'anno no no ma infatti ragazzi noi lo dobbiamo dire scusatemi Osimène che ha avuto tutti questi infortuni questi problemi per noi è stato terrificante per questo io dico che potrebbe essere affrettata la decisione di dividersi tra De Laurenti e Gattuso proprio perché questo allenatore in una grossa fetta di questo campionato dove il Napoli ha perso delle partite che sono poi diventate tremendamente importanti e le perdi perché non avevi un attaccante noi all'andata contro lo Spezia giochiamo con lo Zano come unica punta giovanmo con lo Zano unica punta voglio dire ci sono stati momenti in cui il Napoli non sapeva chi doveva mettere in campo allora tutto questo non ha aiutato anche il lavoro di Gattuso allora se tu devi prendere il primo che passa e se abbiamo criticato Ponseca per la partita con la Roma oggi dobbiamo dire lo stesso di italiano allora io tra l'italiano De Zerbi Juric mi tengo Gattuso poi se vai a prendere un allenatore che ha sicuramente più esperienza per la Champions vai a prendere un allenatore che ha più esperienza per certi tipi di partite allora lo voglio capire ma devi prendere Allegri ma vuole anche i calciatori è che vuole anche i calciatori Mimmo scusami ti ho interrotto vai continua vai in chiusura nel salutarvi chiedo al tuo collaboratore il mio modo in questo momento di esprimere in questo modo se ha un significato se ha un senso oppure io mi sto illudendo che possa veramente succedere che il nostro silenzio possa dare una grossa mano a questa società a questo ambiente e al nostro grande nato però lo sai Mimmo ti rispondo io sul silenzio stampa non è mai buono un silenzio stampa non è mai buono poi ma adesso ho pagato no 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 allora che sia scaramantico che sta pagando perché così nessuno può dire nessuna parolina nessuna però ripeto Mimmo fammi dire che noi siamo l'unica società Francesco 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 non è il momento no lo so infatti ne parliamo ne parliamo a fine e io ti dico quanti punti ha tolto quel giornalista quanti punti ha tolto però ne parliamo a fine stagione hai ragione ne parliamo tiriamo la linea adesso è il silenzio però Mimmo il silenzio stampa siamo l'unica società che non faceva il prepartita adesso solo quel silenzio bisogna criticare tutto quanto però se ci limitiamo al minimo essenziale sì sì il minimo essenziale il minimo essenziale è chiaro grazie ciao Mimmo grazie a te allora in chiusura ancora qualche messaggio sì pseudotecnici dovrebbero chiedere scusa a Vittor Rosimendo per averli ingiustamente massacrato e a Gattuso che a gennaio doveva essere allontanato a furor di popolo ma lo sapete ragazzi la nostra è una piazza molto umorale non solo nei tifosi ma anche negli opinionisti e forse anche in molti giornalisti io ho tentato sempre di mantenere una linea e l'abbiamo fatto qui con Club Napoli di mantenere un profilo che è quello di aspettare di capire Gattuso ha le sue pecche Gattuso ha fatto i suoi errori però Gattuso aveva bisogno di una squadra che gli fosse vicina e soprattutto gli fosse pronta a rispondere alle sue giocate volevo rispondere a Mimmo che ci sta vedendo quindi il problema non siamo tanto noi del mestiere perché oggi con i social i giocatori leggono tutto quindi anche se noi vogliamo essere un po' più parsimoniosi per alcune cose ma ci sono i social che li bombardano i social dopo 30 secondi sanno già tutto è vero quindi secondo me dobbiamo dire quel che è giusto e anche perché poi alla fine sono persone adulte fanno questo per mestiere e chi sul posto di lavoro non ha avuto una critica e quindi è giusto che le abbiano anche loro allora non riusciamo a salutare credo Max perché non si è ricollegato più va beh allora lo salutiamo virtualmente anche a lui e gli auguriamo buona domenica come auguro buona domenica a tutti i nostri spettatori grazie a Marco Menillo in regia noi ci vediamo lunedì sarà un'altra settimana calda perché ci saranno due partite una martedì alle 20.45 l'altra domenica alle 12.30 tanto da mamma mia guarda è un orario veramente allucinante faremo un breve per partita intorno a mezzogiorno come di consueto ma veramente osceno come tra virgolette come orario e quindi comunque sarà una partita tutta tutta da vedere allora questo signore Riccardo dice se difendiamo Gattuso non ti fiammo neanche Napoli vabbè allora Riccardo forse non sei tifoso del Napoli mi dispiace dirlo ma credo che tu non sia tifoso del Napoli forza Albinoleffe allora eh forza Albinoleffe bravo forza Albinoleffe oggi Gattuso a Bordogambo non ha rifiatato non ha rifiatato no ma poi non difendere Gattuso in questo momento è pazzesco e dire che non siamo tifosi del Napoli penso Riccardo che tu forse tipi per un'altra squadra forse a strisce bianco nere va bene allora grazie grazie a tutti voi che ci avete seguito si dorme ecco lo dico anche all'amico Riccardo anche se è presto però stasera si dorme sereni finalmente perché noi non dormiamo quando il Napoli non vince e quindi figurati e allora credo che tu caro Riccardo possa vedere domani Juventus-Milan forse con più tranquillità e forse tiferai per quelli lago le strisce va bene e allora Forza Napoli ci vediamo lunedì alle 15.30 come di consueto appuntamento con Club Napoli Unis ciao